Massimo Gallo, ciao Gesùè, borderline o no? So quello che devo fare ora. Ah sì, era della chat dell'altra volta. Grazie anche al tuo corso che mi sono riascoltato. Grande Massimo. Riccardo Pecce. Su YouTube vi è andata a guardare nei blog, eh? Cioè questo paura di avere una relazione. Io mi ricordo che anch'io ho fatto queste cazzate qua. Una, mia ex, si era allontanata, insomma, non ci eravamo più sentiti. Io avevo detto questa coglia, l'avevo detto. Cioè pensa come sto... Mi è andato a ridere un coglione. Le avevo detto questa... Hai avuto paura della relazione? Lei ha detto sì. E poi che caso abbiamo concluso? Alla fine, vedete, portare una donna a razionalizzare queste cose. Praticamente le mettete in mano una scusa. Lei in quel momento era emotiva. Io le ho dato a lei una scusa per essersi allontanata. Lei si è allontanata. Capite ragazzi che... Cioè... Ritornando al discorso di Filippo Germano. Cioè è importante il trauma. È importante capire da questi errori. Perché se no... Cioè non... Non riuscite a capire e mi fate delle domande così come Riccardo Pecce. Per rispondere comunque alla tua domanda, Riccardo, non è... Cioè non è perché ha paura di una relazione. Se... Dice che ha capito di avere un'attrazione mentale e fisica verso un ragazzo ma preferisce mantenere un'amicizia. È perché ha paura di avere una relazione? No, perché non è attratta. Sei tu che pensi che abbia un'attrazione mentale e fisica per un ragazzo. Ma se una donna ha un'attrazione sia mentale che fisica per un ragazzo non preferisce mantenere un'amicizia che finti sei visto. Ok? Quindi non è perché ha paura di avere una relazione. Semplicemente non è attratta come pensi tu.